Sono Maurizio Cau, ricercatore ISIG e in occasione della settimana di studio dedicata alla transizione come problema storografico interverrò con una relazione sull'evoluzione delle culture costituzionali nell'Italia e nella Germania del secondo dopoguerra. Si tratta di un torno d'anni in cui la dimensione statuale conosce una ridefinizione davvero radicale. Il mio interesse va alla scienza giuridica, in particolare alla scienza giuspubblicistica, per tentare di capire come appunto la scienza giuridica accompagna questo processo di cambiamento o come in qualche in qualche misura per certi versi subisce questo questo processo di cambiamento. Cercherò quindi di ricostruire l'evoluzione dei modelli dottrinali che la scienza giuridica adotterà per cercare di prendere le misure rispetto a questo mutamento epocale.